E la BCE con Christine Lagarde non taglia i tassi di interesse nella riunione della BCE di questo pomeriggio. I mercati la prendono malissimo e crollano in maniera incredibile. Piazza Affari e Fuzzimib Italia, meno 16, quasi, meno 17%, ragazzi. È una cosa che, nonostante io abbia visto sia la crisi del 2000 sia la crisi del 2008, vi dico francamente non avevo mai assistito a una cosa di questo tipo. È un massacro finanziario. Andiamo a guardare i grafici, andiamo a vedere quello che sta facendo anche l'America perché non risparmia neanche l'America questo momento storico, ragazzi. Il bazooka, vecchio bazooka di Mario Draghi che aveva utilizzato per proteggere l'euro e tutta l'economia europea è stato comunque attivato, ragazzi. Anche se i mercati l'hanno presa male, ma il bazooka da 120 miliardi in questo momento di tampone per tutti i titoli di Stato e il debito pubblico dell'eurozona è stato attivato da Christine Lagarde, ma il mercato si aspettava probabilmente una reazione più forte perché evidentemente i rischi connessi al sistema economico, di crash mondiale del sistema economico sono stati sottovalutati, almeno secondo quello che il mercato sta dicendo in questo momento. Lo so ragazzi, è il secondo video della giornata, è un momento storico, un momento incredibile. Siamo anche chiusi qui in casa, in quarantena tutti quanti, mezza Italia. Io do il mio contributo, do quello che posso dare a tutti voi, quello che posso fare perché so che moltissimi in questo momento sono in grande panico quindi nulla di meglio da fare se non chiarire le idee andare a guardare le cose per rendere il tutto, la pillola il più dolce possibile, ragazzi. è un momento storico, è uno dei momenti più importanti probabilmente degli ultimi 50 anni della storia del mondo. Andiamo davanti ai grafici a vedere quello che sta facendo il Fuzzimib Italia e poi vi faccio vedere anche quello che sta facendo l'America, la Germania ma siamo tutti nella stessa barca. Guardiamo qualche grafico per capire l'entità di questo ribasso, ragazzi. È incredibile, è enorme e poi guarderemo anche lo spread perché lo spread sta salendo però il tampone che la BCE dovrebbe aver inserito da oggi quindi partirà da domani probabilmente, dovrebbe fare i suoi frutti e bloccare questa fase di rialzo dello spread. Allora andiamo davanti a noi, ragazzi. Incredibile, io sono allibito, vi giuro, non ho mai visto una cosa del genere in tre crisi finanziarie, ragazzi, negli ultimi 20 anni ormai dal 2000, ragazzi. Perché questa forza ribassista? A proposito, perché ragazzi, io poche settimane fa ne avevo parlato, più volte accennato però non siamo mai pronti davanti a una cosa del genere, parliamoci chiaro, non siamo mai pronti. Avevo accennato la possibilità di assistere a flash crash immediati, veloci, improvvisi e fortissimi perché tutte quelle che sono le posizioni gestite dai sistemi di trading degli hedge fund tutti quelli che sono le posizioni gestite da investitori che utilizzano ormai l'IA quindi l'intelligenza artificiale per gestire queste posizioni soprattutto i grandi fondi e quant'altro sono andati in stop, ragazzi, e creano questi super ribassi che una volta sarebbero stati spalmati magari in un mese adesso fanno tutto in quattro giorni, in tre giorni, ragazzi. È finita o non è finita? Non lo sappiamo, questo è sicuro, sicuramente. Se il coronavirus arriverà all'infezione toccherà gli Stati Uniti toccherà in maniera forte come sta toccando in questo momento in Europa ragazzi, siamo solo all'inizio, a quel momento, in quel caso, si salvi chi può non voglio neanche pensarci, ragazzi, siamo ancora positivi allora, Fuzzimib Italia, ragazzi, guardate, questo è un grafico weekly quindi si basa sul settimanale, solo così noi possiamo vedere quello che sta accadendo in queste ultime due settimane questo è un grafico settimanale, ragazzi, da qui per esempio da qui, ecco, facciamolo da qui era il giugno 2016, ragazzi, per farvi capire e questo è l'aprile 2018 per farvi capire luglio-giugno 2016 aprile 2018 quasi due anni, ragazzi quasi due anni per fare questo movimento completamente annullato in una settimana e mezzo ragazzi, per farvi capire quanto è importante quanto è forte questa fase questa è l'ultima crisi che l'Italia ha vissuto però partivamo da prezzi molto più alti ed era quella del 2007 ragazzi, vedete come si è sviluppata da maggio 2007 al marzo 2009 quindi parliamo di quasi due anni di ribasso qui, ragazzi, l'entità è allucinante perché è tutto all'interno di una singola settimana cioè facciamo nella settimana attuale, ragazzi che ancora non è neanche finita perché chiuderà domani noi stiamo facendo meno 28% l'Italia sta facendo meno 30% in una sola settimana nella scorsa abbiamo perso 5% e nella precedente l'11% quindi se facciamo un calcolo delle ultime tre settimane come range di prezzo in Italia andiamo a un meno 38% meno 40% una cosa scioccante, ragazzi miliardi e miliardi bruciati in questo momento le conclusioni poi da chi dipende, non dipende era giusto, non è giusto è costruito, non è costruito io so che molti, molti si stanno ponendo queste questioni anche io, ragazzi non siamo chiaramente così lo sapete benissimo però ci saranno anche modi e tempi diversi di affrontare queste domande di dare risposte a queste domande poi con il tempo quando avremo più chiara la situazione non certamente in una fase di panico perché in una fase di panico, ragazzi non ha senso fare queste riflessioni questo è l'ultimo appiglio dell'Italia il funzionario di Italia 12.000 ora siamo a 15.000 circa a 14.900 punti sui 12.100 ci sono i ribassi minimi storici degli ultimi 10 anni quelli del 2009 questa grande crisi andrà a finire così, ragazzi questo è un errore perché questi dati di trading view non sono precisi quindi non insomma non lo considerate ma questo era il grande ciclo del ribasso dei mercati dal 2000 vedete dal 2000 2009 questa lunga fase di congestione boom che sia anche auspicabile come la fine di un'epoca in Italia la fine della grande crisi italiana crisi che abbiamo vissuto solo noi in pratica perché da qui ragazzi dal 2009 il mondo è salito in maniera allucinante che sia anche questo ma ben venga ma magari lo scopriremo nei prossimi giorni andiamo a vedere invece lo standard Impulse 500 in questo momento sta reagendo proprio in questo momento ha iniziato una fase di rimbalzo ragazzi perché pochi secondi fa era attorno ai 2500 punti vedete anche la fase di salasso proprio di pesante ribasso io avevo fatto il primo video qui ragazzi quindi due settimane fa guardate che cosa ha fatto già solo questa settimana per le standard del Pulse 500 americano siamo a meno 12 di ribasso che sia la fase conclusiva anche qui non lo sappiamo i ribassi sono e anche insomma i rimbalzi sono stati in questo momento ve lo faccio vedere magari su un grafico più breve ecco guardate nell'ultima ora il mercato ha fatto questa candela quindi ha rimbalzato dai 2500 punti adesso sta tentando un'inversione nel breve nel breve periodo cosa significa questo ribasso in America significa che gli americani in questo momento sono anche loro preoccupati guardiamo anche il Dow Jones anche il Dow Jones è lo stesso ragazzi vedete anche qui abbiamo una candelona gigantesca quindi insomma pesantemente al ribasso questi sono i futures andiamo a vedere il Nasdaq è la stessa cosa siamo tutti nella stessa barca il Nasdaq è il titolo l'indice tecnologico americano vedete sta facendo tutti questi movimenti certo non come l'Italia ragazzi ma anche la Germania non ci abbandona in questo crash questo è l'indice tedesco il DAX 30 stiamo andando anche qui sul DAX 30 un meno 20 a livello settimanale una cosa incredibile il DAX che veniva però da rialzi insomma da prezzi un po' più alti perché l'economia tedesca è salita di più di quella italiana in questi anni e quindi ha fatto meglio di noi poi volevo farvi vedere invece l'unico indice che in questo momento va su ragazzi ed è il VIX l'indice della paura il VIX è l'indice di volatilità del mercato che però ragazzi ancora non ha toccato i livelli del 2008 il 2 mail il livelli del 2008 ragazzi sono vicini ma non sono ancora stati toccati il VIX l'indice della paura è l'unico che ha fatto insomma questa botta rialzista ovviamente è tradabile solo con alcune tecniche particolari ragazzi difficilissimo il VIX da tradare ci si muovono dei trading system insomma e delle strutture idonee di trading insomma per fare trading su questo mercato veramente estremamente complesso questo è tutto per quanto riguarda questo breve aggiornamento questa pillola di aggiornamento dei mercati non vi nascondo che è una giornata di forte tensione vedremo quello che succederà soprattutto stiamo a guardare quel benedetto grafico di cui vi ho parlato a inizio settimana cioè quello dell'espansione del virus che per noi italiani in questo momento chiusi in quarantena tutta Italia zona rossa rappresenta il grafico più importante di tutti ragazzi che dire è un momento storico raccoglieremo diciamo i cocci fra un po' ma magari fra un po' potremo anche unirci per una ripresa per una risalita per un cambio radicale anche della nostra mentalità di quello che è questa Italia che dovrà andare avanti comunque ciao a tutti grazie 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 grazie